Salve a tutti, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 13 giugno 2023 il numero 69 con cui sono state introdotte importanti novità anche in materia di personale scolastico ed in particolare di ricostruzione di carriera. Il decreto legge prevede infatti una modifica sostanziale del sistema attualmente vigente in tema di ricostruzione di carriera per il personale che verrà immesso in ruolo dal prossimo primo settembre. In particolare il sistema attuale prevede che per il servizio pre ruolo venga valutato per intero limitatamente i soli primi quattro anni mentre il restante periodo viene valutato per i due terzi. Il nuovo sistema introdotto dal decreto legge 69 prevede che per il personale immesso in ruolo dall'anno scolastico 2023-2024 il servizio pre ruolo verrà integralmente valutato quindi senza quella limitazione ai due terzi per tutti i periodi eccedenti i quattro anni. Tuttavia altra novità introdotta dal DL69 è che non si applicherà più il sistema secondo cui per la riconoscibilità di un anno scolastico era sufficiente aver prestato almeno 180 giorni di servizio ma verrà valutato ai fini del computo di un anno scolastico solo il servizio effettivamente prestato. Questo nuovo sistema per i neo immessi in ruolo comporterà una drastica differenza rispetto al passato e quindi ai vecchi immessi in ruolo in quanto per i nuovi assunti verrà valutato solo il servizio effettivamente prestato senza la possibilità di beneficiare del meccanismo di favore che riconosceva un anno scolastico col raggiungimento di almeno 180 giorni di servizio di insegnamento. Altra novità introdotta dal DL69 sempre in materia di ricostruzione di carriera riguarda il personale ATA nei confronti del quale è stato esteso anche il principio secondo cui verrà valutato tutto il servizio interamente prestato nelle scuole statali prima dell'immissione ruolo senza alcuna limitazione così come invece avviene attualmente. Arrivederci a tutti.